cari amici di mille un'avventura in un recente video del corso di assembly per il commodore 64 abbiamo mostrato come simulare la gravità su questo computer degli anni 80 vedete che stiamo facendo volare diciamo così sostenuta da un razzo la nostra navicella in questo video che abbiamo appunto pubblicato qualche giorno fa il 5 aprile e allora qualche nostro iscritto ci ha mandato una versione dello stesso programma ancora più potenziata perché si è ha proprio realizzato un gioco quasi completo un primo livello che poi probabilmente verrà espanso che appunto gabriele dettorre ha realizzato e se non conoscete il canale di gabriele dettorre andate a vedere che mette i suoi lavori diciamo su questo canale su youtube che è appunto a suo nome e questo porting diciamo del lunar lander che avevamo trattato qualche tempo fa metterò qui in descrizione il link al video con tutta la saga di lunar lander cominciando dai primi tentativi degli anni 60 fine anni 60 fino ai più recenti sui computer degli anni 80 ancora riprodotti adesso ecco questo porting di lunar lander è stato realizzato con tic 80 cos'è questo tic 80 è un fantasy computer cioè un computer che non è effettivamente un computer reale ma immaginario e come vedete cerca di riprodurre le atmosfere dei computer pixelosi degli anni 80 però si può programmare facilmente gratuitamente grazie al linguaggio lua quindi un linguaggio moderno diciamo visto che risale agli anni 90 e ha tutta una serie di opzioni che consentono di creare sprite immagini sfondi caratteri e così via qui vedete alcuni esempi sul sito ufficiale di tic 80 ma andiamo a vedere cosa ha realizzato grazie appunto a questa sua programmazione qui vedete il tic 80 tiny computer tiny computer già in azione e ho caricato il programma vedete il programma è questo in pratica ci sono tante istruzioni probabilmente si legge meglio se togliamo le ombre probabilmente si direi proprio anzi sicuramente si si può cambiare il font ma così piccolo diciamo è difficile da leggere ecco qui comunque con questo carattere che ci dobbiamo tenere visto che vuole essere un fantasy computer qui c'è tutto un programma scritto in linguaggio lua che fa riferimento ai vari alle varie funzioni specifiche del tic 80 vedete qui quante istruzioni sono state necessarie e qui si legge la scritta se è allunato sano e salvo che è già qualcosa e qui ci sono appunto tutte le funzioni necessarie per farlo funzionare ma andiamo subito a eseguire questo programma e vedete che c'è questa freccia verde che rappresenta il nostro lunar lander e siamo già caduti siamo già crollati c'è lo sfondo crollati ci siamo già schiantati a terra c'è lo sfondo ci sono queste montagne e perciò è proprio una riproduzione di lunar lander del oppure jupiter lander per chi conosce il commodore 64 ma ricominciamo ecco vedete che viene specificata la velocità e lì in alto ecco vedete no non vedete perché ci sono davanti io mi sono schiantato perché per atterrare con successo bisogna essere in verticale con la nostra navicella riproviamo ecco qui vediamo se riusciamo ecco adesso cerco di rallentare un po siamo allunati sani e salvi incredibile non c'ero mai riuscito prima si vede che il bello della diretta mi ha portato ad allunare perciò speriamo che gabrile de torre renda disponibili i suoi sorgenti in qualche sto allunando sano e salvo a ripetizione si vede che un po di allenamento ho esagerato vedete che sono mi sono proiettato nello spazio ora ecco stiamo scendendo a velocità pazzesca ed ecco qui che ci siamo schiantati ecco speriamo che renda disponibili da qualche parte i suoi sorgenti così si potrebbe anche tentare di imparare un po questo tic 80 come funziona siamo allunati sani e salvi perché non sarà sicuramente un computer originale degli anni 80 ma ricrea quelle atmosfere e soprattutto permette di imparare un linguaggio come il linguaggio lua in un contesto molto semplice con la possibilità vedete qui di creare degli sprite qui vedete gli sprite che ha creato in questo sprite sheet con la terra in sottofondo le stelle anche un po di lettere qui e invece la navicella avete visto è realizzata con una serie di linee che ne ricreano la sagoma c'è anche il map editor che permette di costruire lo sfondo il l'editor di suoni di effetti sonori che non credo abbia utilizzato e il music editor si possono creare musichette che riproducono quelle degli anni 80 sui computer a 8 bit quindi provate a vedere sul canale di gabrile editor se metterà un suo gameplay e se metterà il codice sorgente a disposizione di tutti probabilmente prima di renderlo disponibile vuole completare un po il gioco magari mettere qualche livello comunque tenete d'occhio il suo canale eccolo qui gabriele dettorre ci sono già alcuni video che riguardano questo simulatore di diciamo sistemi stellari questo simulatore di tessuti sempre realizzando con pic realizzato con pic 80 e quest'altro appunto sempre una clot simulation c'erano anche altri video però vedo che li ha apparentemente rimossi o forse a no scusate ecco 13 video ci sono e non li vedevo tutti eccoli qua e riguardano un po unity riguardano pic 80 e appunto cose di questo genere il python e quindi andatevi a iscrivere non mi resta quindi che ringraziarvi per l'attenzione in uno dei prossimi video tornerà finalmente il commodore 64 e andremo a sperimentare come si dividono i numeri sul commodore 64 perché ci servirà per un una piccola applicazione che c'è stata chiesta da un altro iscritto grazie ancora a tutti per l'attenzione ci si rivede in uno dei prossimi video ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti